ribenvenuti nel fantastico mondo della birra artigianale l'obiettivo di questa pillola è quello di parlare della birra artigianale per farlo leggerò per voi la legge italiana che regola la birra artigianale articolo 72 24 del comma 27 del 19 settembre 1943 dice si birra artigianale quel prodotto no non vi leggerò l'articolo di legge che regola l'importante è che sappiate che esiste in italia da qualche anno un articolo una legge che dice cos'è birra artigianale e di conseguenza cosa non è birra artigianale ma questa cosa la potete tranquillamente trovare su internet io penso sempre che in realtà bisogna passare si dovrebbe passare in questa nazione in generale dalla forma dal formalismo puro ai fatti quindi birra artigianale oltre che sapere che c'è un massimo di litri da produrre che c'è un tema di indipendenza c'è un tema di non fare delle pratiche industriali per lo più secondo me la cosa importante è capire che chi produce birra artigianale è sostanzialmente qualcuno che sta cercando di dare il suo meglio per mettervi nel bicchiere il miglior prodotto possibile cercando ovviamente di scegliere le migliori materie prime possibili perché tendenzialmente secondo me la vera differenza tra la birra artigianale e la birra industriale è proprio questa è la capacità di poter per i numeri piccoli che si producono poter andare a scegliere e a selezionare le migliori materie prime evitando quindi di dover intervenire nel processo produttivo con additivi piuttosto che altre attività che riescono a migliorare eventuali deficit iniziali quindi è un po' come paragonare qualcuno dice una cucina stellata a una mensa non è che la mensa se vai a mangiare in mensa ti fa morire non muori è così come se bevi birra industriale però è anche vero che se vai a mangiare da uno chef stellato tendenzialmente tutto ciò che nel piatto è stato pensato prodotto migliorato messo insieme assemblato per rendere il massimo possibile e quindi è chiaro che anche le dimensioni sono più piccole è chiaro che tutto quello che viene che viene fatto deve essere anche spiegato perché poi questo deve andare a spiegare anche il prezzo che fra la birra industriale e la birra artigianale è sensibilmente differente io di solito cerco di importare il più possibile persone verso verso il nostro mondo perché l'idea è anche quella di cominciare a degustare a capire che si possono bere sapori differenti momenti differenti si può utilizzare le birra artigianali per gli abbinamenti cucina non solo con la pizza ovviamente ma col pesce con la pasta con i dolci perché no quindi si può spaziare il più possibile ecco è chiaro che produco birra artigianale tiro l'acqua nel mio mulino come dice qualcuno ovviamente però è anche vero che se siete stati sempre abituati a bere birra industriale magari la scoperta di un mondo nuovo potrebbe diciamo illuminarvi illuminarvi sulla via sulla via di damasco come come è capitato a un illustre nostro predecessore concludo questa piccola pillola sostanzialmente ricordandomi che tutti quanti commettiamo degli errori e anch'io nella mia vita ho bevuto della peroni